Per contrastare i malanni di stagione e aumentare le difese immunitarie, oggi più importante che mai, il mondo contadino offre rimedi naturali e gustosi come gli agrumi. Proprio questi colorati e profumatissimi frutti sono disponibili ogni martedì e sabato a Cuneo, nel centralissimo mercato di Campagna Mica in lungo gesso Corso Giovanni XXIII, 15 bis, a fianco dell'ex zoo. Sono infatti arrivati gli agrumi calabresi certificati biologici, che saranno disponibili per tutto il periodo invernale e arricchiscono la già vasta gamma di prodotti stagionali e a chilometro zero dei prodotti locali di Campagna Mica. Un'ottima notizia per i cunesi di tutte le età, che apprezzano particolarmente questi frutti della dieta mediterranea, gustosissimi, oltre che alleati del benessere. Abbiamo diversi tipi, ossia le arance navel, che è un arancio soprattutto da mangiare, dolcissimo, gustosissimo, per poi passare al tarocco, che è un arancio più per la spremuto, per l'insalata. Poi abbiamo un arancio che noi abbiamo ripristinato, che era una razza autoctona delle nostre zone, che è l'arancio vaniglia, che veniva chiamato arancio del popolo nei tempi che furono. Questo arancio qui ha la particolarità che non porta acidità allo stomaco. Per poi passare alle clementine, che abbiamo le clementine comuni, che sono quelle buonissime, quelle che conosciamo un po' tutte, anche queste qui che abbiamo oggi qui al mercato, che sono le clementine tardive, perché per ogni periodo c'è un innesto giusto. Nonché abbiamo anche dei pompelmi, gialli e rosa, adesso è il periodo di quelli gialli, e anche il bergamotto, che è stato conosciuto da poco sui vari mercati, ma era comunque una pianta e un frutto presente da noi anche nei secoli, che veniva utilizzato prima soprattutto per fare profumi, essenze, ma adesso è stato scoperto negli ultimi periodi, insomma, che va tantissimo contro il colesterolo cattivo, e viene raccomandato in diverse diete dai dottori, per non dimenticare i limoni, naturalmente. Noi abbiamo i limoni 365 giorni l'anno. Questa è la qualità che abbiamo adesso, si chiama zagara bianca, ed è una qualità che ho meglio conosciuta come quattro stagioni, che praticamente fa limoni quasi tutto l'anno, addirittura, mentre c'è il frutto, riparte la seconda fioritura. Ci vuole raccontare qualcosa anche della stagionalità degli agrumi? Noi generalmente cominciamo la raccolta attorno al 15 ottobre, con le prime clementine, e poi accompagnato per tutto l'anno con tutto il resto degli agrumi, fino ad arrivare a fine maggio quasi. Addirittura ci sono anche delle arance tardive che arrivano fino al mese di agosto. Oggi io sono presente qui come ospite al mercato di Campagnamica Cuneo, ma i prodotti comunque saranno presenti fino a fine aprile. Li manderemo direttamente dalla Calabria fin qui, ci sarà la roba fresca settimana per settimana e potrete gustare tutte le nostre eserizie. Signor Pasquale, lei è un po' l'esempio di quello che poi è veramente la rete di Campagnamica, perché arrivando dalla Calabria, siamo in Piemonte, che cos'è per lei Campagnamica? Per me Campagnamica è soprattutto la possibilità di poter avere quel rapporto diretto con i clienti, che io preferisco chiamare amici, che generalmente è sempre mancato tra l'agricoltore, il produttore, tra quello che veramente produce e quello che consuma. Il consumatore è sicuro di quello che viene a comprare, di quello che trova, è sicuro della genuinità, della bontà e della qualità di ogni prodotto.